Ciao, sono Angelo Tarantini, sono lead coach del Fight Club. Ho dedicato la mia vita alle arti marziali e agli sport da combattimento. Da anni lavoro in giro per il mondo con atleti d'elite nelle top promotion mondiali di MMA e Muay Thai come coach e come catwoman. Sulla pagina del club, assieme al mio staff, condividerò le mie esperienze e tratteremo diversi aspetti dell'allenamento negli sport a combattimento, tecnico, tattico, fisico, rivolto al dinamamento, al coaching, al lifestyle, al vendaggio delle mani e via dicendo. Seguiteci sulle nostre pagine Facebook e Instagram, vi aspetto.